La concessionaria Fratelli Viotti presenta la nuova Citroen C4 Cactus, la berlina compatta, ultra-confortevole. Si differenzia su un nuovo frontale, ampio ed espressivo, con fiancate e rivisitate e un posteriore generoso e dalle linee molto fluide. È dotata di 12 sistemi di assistenza alla guida e 3 tecnologie di connettività, per viaggiare con facilità e relax. Si potrà navigare con informazioni in tempo reale, grazie alla nuova tecnologia Citroen Connect Nav, con funzioni Mirror Screen con Android Auto, Apple CarPlay o Mirror Link per riprodurre i contenuti del proprio smartphone. Citroen offre la totalità di 31 combinazioni diverse per personalizzare la propria C4 Cactus. 9 tinte di carrozzeria, 4 pack color di pendenza e 4 tipologie di cerchi in lega. È possibile provare la nuova Citroen C4 Cactus presso la concessionaria Fratelli Viotti, via Galimberti 14, Biella. Per informazioni 015 40 5 335 oppure www.fratelliviotti.srl.it www.fratelli di valore rifatto.com.at